L'anno scolastico 2018-2019 ha preso il via in modo irregolare a Sciacca. Nonostante le varie polemiche sorte per l'avvio il giorno dopo l'ultima serata del carnevale estivo, questa mattina di buon'ora gli studenti della città si sono alzati al suono della sveglia. Nessuna assenza di massa, nessuna classe vuota. Invertendo un vecchio proverbio, dopo il piacere è arrivato il dovere. Già dalle 8, bambini, ragazzi, famiglie, corpo docente e personale scolastico questa mattina erano pronti a far ritorno a scuola. Hanno guadagnato un'ora di sonno invece ragazzi del liceo scientifico, agevolati nell'orario d'inizio delle lezioni, posticipato alle 9. Più fortunati infine gli studenti della Mariano Rossi, per cui come noto la prima campanella squillerà domani. Come dicevamo, tutto nella norma, sebbene ci sia stata qualche novità. Hanno infatti dovuto cambiare sede gli alunni del Plesso Catusi, spostati nelle scuole Sant'Agostino e Loreto. A causa di lavori di manutenzione ancora in corso, i piccoli studenti della scuola dell'infanzia appartenenti al primo circolo sono stati accolti dalle due scuole che hanno messo a disposizione alcune aule. E per evitare disagio alla circolazione a San Michele, nei pressi della scuola Loreto, che quindi ha accolto nuovotense, il comandante della Polizia Municipale, Francesco Calia, ha attuato delle modifiche. Fin quando i bambini non torneranno al Plesso Catusi, saranno in vigore nella zona di vieti di transito e di sosta e l'accesso alla scuola sarà consentito dalla salita Loreto e dalla via Passaggio. Modifiche per cui il comandante Calia chiede la collaborazione delle famiglie per il loro rispetto.